Tirata in ballo negli ultimi giorni nel botta e risposta tra la Fondazione San Raffaele di Celia Messapica e il consigliere regionale Fabiano Amati, a cui si sono aggiunte organizzazioni sindacali e rappresentanti di diverse forze politiche, interviene ai microfoni di Antenna Sud della ASD di Brindisi, nella persona del direttore generale Maurizio Denuccio, che chiarisce il ruolo della ASD, che al momento, in attesa che la legge che renderà pubblico il San Raffaele venga approvata, sta effettuando sopralluoghi alla struttura su più fronti. Innanzitutto aspettiamo che la legge entri in vigore, perché è stata approvata dal consiglio regionale, deve essere pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Puglia e quindi entrare in vigore. Ovviamente ci atterremo a quelle che sono le disposizioni legislative, quindi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dovremmo redigere un documento programmatico con un cronoprogramma adeguato. Il 22 maggio sono andati i nostri dipendenti del SISP, i colleghi del SISP, hanno già redatto un primo verbale sulle condizioni igienico-sanitarie della struttura. Stiamo aspettando di completare l'ispezione con l'analisi, tutta la documentazione amministrativa relativa al personale. Sulla questione relativa alle unità occupazionali da assorbire dall'ente privato al pubblico, Denuccio conclude. Aspettiamo la settimana prossima, vediamo quelli che sono gli esiti del Dipartimento di Prevenzione, dopodiché potremmo notificare anche in regione gli esiti ufficiali dell'ispezione.